La principale sfida che ci attende è il rafforzamento di quel filo di fiducia con i cittadini. Noi siamo il primo fronte, l'interfaccia istituzionale dei cittadini, la nostra capacità di ricostruire, di rafforzare quel filo è un risultato per la qualità della democrazia, non solo per i nostri comuni. Questo significa ovviamente lavorare per avere comuni efficienti, avere norme adeguate, semplificare il nostro quadro normativo e garantire un'equità nei servizi di tutti i cittadini, delle città più grandi e delle aree interne, anche dei piccoli comuni. Io credo che ci sarà una grande partita che riguarda la sanità e quindi immagino che ANCI a livello nazionale sarà un interlocutore importante. Questa sarà sicuramente la prima richiesta, ma ce ne sono altre che riguardano la fiscalità locale, che riguardano altre partite, penso alla tassa di soggiorno e quindi ci saranno tavole interessanti di lavoro.